Una domanda legge nel mondo del web e non solo. La domanda è molto semplice, ma Brian Danielson deve proprio perdergli tutti questi incontri importanti? Non può arrivare a vincere qualcosa, una faida, una situazione? Cosa che lo porterebbe ovviamente, no? A rendersi felice, a vederci felici noi che siamo suoi fan? Beh, la risposta potrebbe non piacervi. Benvenuti a tutti, io sono Stefano, la voce di WItalian Podcast. Anche oggi sono qua per parlare di Relit, nello specifico di Brian Danielson e del suo ultimo anno. Beh, sostanzialmente stiamo vedendo quello che dovrebbe fare qualsiasi reale leggenda del mondo del wrestling e in generale del mondo dello spettacolo, ok? Prendiamo un'arte che mi sta a cuore e che sicuramente non trova tanto riscontro in quello che sto per dire. Ma nel cinema ci vorrebbero attori che sono molto bravi, molto formati, molto... ci vorrebbero questi attori che facessero tante parti nel finale della loro carriera in cui lasciano il protagonista un po' più giovane alla ribalta e loro sostengono, supportano, aiutano, consigliano e boom! Ricambio generazionale. Questo dovrebbe accadere anche nel mondo, che ne so, del calcio. Quindi un calciatore magari molto forte in un ruolo che a un certo punto scova all'interno della sua squadra quello che potrebbe essere, no? Il calciatore che lo sostituisce lo prende e gli dice, guarda Tato, vieni, ti insegno delle cose, ti faccio vedere delle cose, entriamo nello specifico dentro alcuni momenti importanti della mia carriera, ti faccio vedere alcune cose e con l'allenatore cerchiamo di trovare un tramite, di farti giocare un po' di più. Poi è chiaro, ci sono delle dinamiche dove lo puoi fare e delle dinamiche in cui non lo puoi fare, però tecnicamente dovrebbe essere così, cioè tu vedi un calciatore che è nel tuo stesso ruolo e gli dai una mano a emergere. Ecco, nel wrestling questa cosa dovrebbe succedere. Ora, ci sono dei momenti in cui delle persone vanno over, quindi vincono dei match, semplicemente perché è arrivato il momento di vincere dei match. E quindi entrano in punta di piedi magari durante un incontro, ne escono vincitori e si prendono il pop del pubblico e vanno sostanzialmente a prendere un nuovo segmento della card. Ci sono invece delle altre volte in cui questa cosa viene un po' reiterata, un po' allungata, un po' sbrindellata, perché ci sono dei main eventer di fatto che devono star lì per tanto tempo. E quindi anche se uno magari è diventato bravo, sufficientemente bravo, a un certo punto della sua carriera, trova la strada sbarrata. E in questo caso, chiaramente, come faccio a scambiare, a mandare over qualcuno e togliere qualcuno dei veterani? Lo faccio se vedo che effettivamente questo qualcuno a un certo punto vende di più. E lo sappiamo, il business del wrestling è questo, no? Io mi porto a casa gli Hardy Boys, gli Hardy Boys vendono un sacco di merchandise, e allora mando over gli Hardy Boys, li faccio diventare magari campioni. Se io mi porto in casa gli Hardy Boys, vanno normalmente a livello di merchandise, le cose le fanno funzionare sì e no, normale, come gli altri, stanno nella card che è giusto che loro tengano. Inutile dare loro il titolo per quale motivo. Non c'è ragione. Ecco, Brian Danielson sta facendo esattamente questo tipo di percorso, sta portando tanti lottatori, che sono oggi main eventer o vicini al main event, ad andare over grazie alle sconfitte che lui si prende. Sconfitte, peraltro, che lo sappiamo molto molto bene, non stanno minimamente intaccando Brian Danielson come persona, come wrestler. Sono sconfitte che sono propedeutiche a far crescere l'avversario. E nel mondo del wrestling, che è sport ma è anche spettacolo, è molto importante, perché nel momento in cui Brian Danielson decide davvero di prendere la bandierina del part-timer, lui non può più fare quello che vende i pay-per-view. Magari fa quello che vede il pay-per-view, no? Ritorna per Forbidden Door l'anno prossimo, ritorna per Double or Nothing, non lo so. E quindi si fa magari un buon match, magari anche un bel match, magari anche importante, ok? Però fa quello e basta, non si mette a lavorare troppo. E quindi cosa fai per gli altri pay-per-view? Devi creare delle star che possano effettivamente ragionare e vivere in un determinato modo. Quando MJF è andato contro Brian Danielson all'inizio del suo regno, noi abbiamo visto un Brian Danielson dare per un'ora abbondante del suo tempo un push esagerato a MJF, che già era fortissimo. Ma lì sostanzialmente era impossibile da quel momento in poi non mettersi a guardare, a osservare, a sostenere le capacità in ring di MJF. Che ancora oggi, porca miseria, viene trattato come lui è bravissimo al microfono, però sul ring non è vero. Sul ring è un cazzo di fenomeno. Quindi in realtà, Brian Danielson ha fatto il suo dovere per chi ha gli occhi, per chi invece ha solo le orecchie, no. Ma questo non è un problema. Di base, Brian Danielson ha mandato over tutta la gente che doveva mandare over. Ha specificato molto molto bene a Tony Khan non voglio cinture. E in tutto questo tempo lui non ha mai avuto cinture. Io credo che nel finale della sua carriera in All Elite avesse tanta tanta voglia di lottare contro Kenny Omega il quale però non potrà fare questo scontro. C'è un'altra storyline in ballo al momento del rientro di Kenny Omega e penso che Kenny Omega sarà a un certo punto uno dei match di rientro da part-timer di Brian Danielson, credo. perché comunque loro in All Elite hanno fatto solo un match pareggio dopo 30 minuti. Niente cintura in palio, vi ricordate? Già allora è arrivato. Voglio andare contro Kenny Omega. È il campione. Ok, ma io voglio andare non per il titolo. Voglio andare per vedere chi è il migliore. E hanno fatto un gran match quella volta. Quindi sicuramente potranno ripetere la situazione. Credo che Brian Danielson stia facendo un lavoro molto, molto importante e assolutamente da apprezzare. Io non apprezzo chi nel wrestling non riesce a vedere il risultato se non c'è titolo. Non apprezzo le persone che non riescono a guardare un prodotto per quello che è, cioè intrattenimento. Il tifo ci deve stare perché è giusto supportare. Però poi non deve scadere nel cazzo quello ha vinto contro il mio idolo quindi è una merda. No, no. Semplicemente è il business, è il wrestling che va in quella direzione lì e che molte volte si muove perché ci sono delle situazioni che noi non conosciamo. Situazioni che possono essere contrattuali. Io ti faccio la run da tre anni ma non voglio il titolo. Oppure io ti faccio la run da tre anni ma devo mandare over tutti i lottatori possibili e immaginabili. Cioè quello che sta facendo Brian Danielson è veramente un lavoro certosino di spotting dei talenti ma anche poi exposing dei talenti. Quindi è molto bravo. È molto bravo. Io credo che una delle sue più grandi peculiarità sia proprio quella di essere sempre stato in grado di comprendere il suo ruolo all'interno di qualsiasi compagnia e di sapersi ritagliare poi gli spazi ma soprattutto di avere un ruolo molto 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 ben definito molto facile da comprendere molto facile da vedere e sicuramente giostrato sempre con la grande intelligenza che molti, lo diciamo senza grossa, non hanno. E quindi bene che lui sia lì che faccia il suo torneo Lowenart magari lo vinca, magari vada per il titolo tutto quello che volete voi tutto quello che succederà tutto quello che vedremo sarà bellissimo da vedere, da vivere però non dobbiamo aspettarci che o il premio alla carriera o questo o quell'altro ragazzi il premio alla carriera è eventualmente un Hall of Fame non è un titolo a fine carriera è un Hall of Fame poi Tony Khan l'ha fatto con Sting benissimo ha creato un precedente benissimo sono d'accordo con voi non è detto però che questo precedente venga ripreso rimescolato un po' e gettato in mano a Brian Danielson dico io poi magari lo fanno però nella mia testa ovviamente lui non ha bisogno di questo e se è riuscito a resistere dagli attacchi di Tony Khan prendi un titolo prendi un titolo no per tutto questo tempo io confido che farà e saprà fare la cosa giusta anche in virtù di un'eventuale vittoria del torneo di Owen Hart detto questo vi ringrazio e spero che sia stato interessante come ragionamento magari venite appunto a commentare dirmi qualcosa che pensate anche voi e poi potremo ampliare così il nostro ragionamento intorno a questo mondo particolare strano e bello in realtà della All Elite Wrestling sul modo di avere e utilizzare un Brian Danielson che insomma è lì ci sta facendo godere tantissimo in questo anno e lui lo sa molto bene quando dice ma cazzo li ho persi un po' tutti ma lo sa che noi abbiamo goduto e lo sa che noi godremo finché lui sarà lì fino all'ultimo istante dell'ultimo match che deciderà di lottare in All Elite Wrestling grazie di cuore a tutti io ringrazio soprattutto i nostri abbonati che insomma ci danno una mano a produrre questi contenuti grazie al loro sostegno e ovviamente il grazie va a tutti quelli che poi in realtà guardano i nostri video mettono i like commentano ci aiutano a raggiungere quante più persone possibile grazie di cuore a tutti io sono Stefano la voce di IW Italian Podcast noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti